mister tre punti pesanti d'oro ad un certo punto si era messa malissimo però si è visto il carattere della trentinole dice spesso che non c'è ancora gioco però il carattere c'è come ho detto tante volte in questo punto della stagione mi interessano i risultati il carattere una cosa fondamentale però a spiegare tutto con il carattere non mi piace mai perché cosa vuol dire se perdiamo non abbiamo il carattere no dobbiamo avere più soluzioni tecniche e tactiche durante la partita oggi devo dire che siano stati anche fortunati dopo una buona serie delle battute di antonov e non è la prima volta che lui risolve la partita nel momento importante con la sua battuta a me piacerebbe di vedere una squadra che vince una volta per un fondamentale un'altra partita per un altro oggi verso la fine partita quando abbiamo impostato già il nostro il nostro gioco soprattutto a muro difesa e contrattacco bene ho visto le belle cose ancora abbiamo tante insicurezze ancora c'è tanto da lavorare e purtroppo non lo facciamo per motivi ovvi però se riusciamo di avere buoni risultati nelle prossime due settimane poi avremo più tempo di loro e poi c'è da dire che siete sempre alla ricerca di un leader e oggi nel momento più difficile mitar di uric ha pagato da questo punto di vista tenerlo in campo ma mitar io non ho mai dubbi su mitar gioca bene o gioca male e mitar sempre c'è lui ci tiene di vincere le partite e sempre fa in campo da cento per cento ha sofferto per vari motivi perché non sta bene fisicamente soprattutto ha grossi problemi e non si allena bene per motivi tecniche anche però io sapevo che quando serve mitar c'è e lui lo ha dimostrato in campo dalla panchina anche daniele mazzone ha offerto il suo contributo è stato un buon ingresso daniele mazzone è pronto anche di giocare perché muro attacco è stato oggi perfetto si ricordava anche bene la tattica quindi ha fatto un ingresso molto importante ma è da due mesi che si allena bene quindi per tutti i giocatori nella nostra squadra le porte sono sono aperte per il futuro di sicuro troverà più spazio era la partita giusta come condizioni climatiche come situazione per testare la propria forma contro modena no no modena è un altro livello modena è un altro gioco serve un'altra preparazione tutto diverso non penso non penso che questo era un test per modena